Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti a Radio Sherwood dallo stand media e produzioni. Siamo qui in compagnia con DubFX, accaldatissimo, una super tournée in tantissimi paesi, ma oggi coronerà qui una serata reggae in compagnia di amici, infatti ci sono anche Mello Mood, Paolo Baldini. Insomma, come ti senti? Stanco, è abbastanza, però so come trovare l'energia per lo show, quindi sono sempre in tour, mi sento stanco finché arriva il momento di cantare, poi mi viene l'energia e poi dopo ritorno ad essere stanco. Un inizio interessante qui, in questa serata, che coronerà sicuramente uno dei generi più nuovi qua a Sherwood Festival. Infatti la serata reggae è comunque una serata ricorrente che noi stiamo costruendo, stiamo lavorandoci. Come vedi un futuro nel reggae in Italia? Tu hai sperimentato rap, reggae, insomma style rock, dub? Ti sei un po' mosso. Che sbocchi vedi per questo genere in Italia ad oggi? Io direi che ormai questa idea di generi diversi non è più una cosa. La musica, io sono un artista eclettico, io faccio tante cose diverse e non è che ci punto su un genere e più che altro tanti DJ, non esiste tanto tanti DJ che fanno solo una cosa, è più i festival che fanno solo una cosa, è più una cosa più mista. La musica è musica, il soul è una... Secondo me è più importante che la musica avviene da un posto vero, artistico, non commerciale, non pensare di fare musica per essere un prodotto, ma per essere una cosa, per spingere le idee in avanti. Quindi se vuoi fare musica, se fai reggae e non fai quelle cose lì, allora non è arte secondo me. Quindi puoi fare qualsiasi cosa, però basta che trovi di spingere i tuoi pensieri in avanti senza di essere un prodotto. Non so come spiegare bene in italiano, però penso che hai capito cosa dico. Beh, tu sei un pioniere dell'indipendenza, tu sai che sei già stato qui a Sherwood Festival diverse volte, Sherwood Festival corona un po' collestivo l'indipendenza del nord-est. Se domani ad esempio tu ti svegliassi e ti avessero tolto l'indipendenza musicale, cosa ne sarebbe di te? Io sono un padre prima di qualche altra cosa, cioè io sono papà, sono due bambine, per me quella è la cosa principale nella mia vita. La musica la faccio per l'amore e per soldi ovviamente perché pago, però troverai altri modi di farlo. Se qualcuno dice domani non puoi fare più la musica, se non puoi essere più indipendente allora vuol dire che non posso più fare la musica, perché io non farei una cosa commerciale, un prodotto fatto per una cosa vacuous, non so come dire. Per me deve essere una cosa che mi sento dentro di me, se non posso fare più quello con la musica farei qualcos'altro. Tu sei cosmopolita, si può dire, viaggi, internazionale, ovunque. In Italia però attualmente abbiamo una situazione un po' a doppio binario, cioè Milano è tutto il resto. Secondo te con l'indipendenza c'è un modo per spezzare le gambe a Milano, per dire alle persone c'è modo di fare musica senza per forza andare là, senza spostarsi? Puoi rimanere dove sei e comunque avere la tua strada? È importante avere una comunità che ti aiuta, non puoi essere indipendente e completamente solo. Io anche se sembro di essere un artista indipendente solo faccio parte di tanti diversi gruppi di promoter in tutto il mondo che loro mi chiamano per fare uno show, loro sanno che io porterò un certo giro di gente che mi conosce per via di YouTube e quelle cose lì. Io negli ultimi 15 anni ho sempre lavorato con questo tipo di promoter in tutto il mondo praticamente. Quindi non è che sono una persona sola, cioè se te vuoi fare musica, arte e vuoi sopravvivere sopra, è più un fatto di trovare una comunità e di stare insieme e spingere insieme e continuare a spingere quello che vuoi spingere praticamente. Se c'è gente che vuole... La problema è che in questo mondo, il mondo commerciale è molto bravo, sono bravi a lavare la mente alla gente e dire questo è quello cool, questo è tipo trap, questa roba qui commerciale pop. E tanti bambini ascoltano questo messaggio e ne pensano di quello. Però dopo un certo punto arriveranno a capire che non è una cosa... è come mangiare qualcosa senza vitamine. Dopo un po' ti viene... si senti... Non so, se mandi McDonald's tutti i giorni non sei più una persona, capito? Anzi, sei una persona... you become a statue, si viene una statue, non c'è niente dentro, non sei più umano secondo me. Quindi è la stessa cosa con la musica, con l'arte, devi trovare qualcosa che ti dà sostenanza. Sostenanza, sì. Quindi stasera nel main stage, DubFX, Mellow Mood, Paolo Baldini insieme, rimpatriata e ci vediamo stasera. Buona fortuna. Ok, grazie.